Facciamo un punto sull'attuazione di queste tante sfide destinate a cambiare anche molte abitudini di vita quotidiana dentro le città. Questa è una delle tante eredità strutturali a cui ambisce il PNRR. A che punto siamo e dove andiamo? Io credo che quando c'è una grande quantità di risorse come quelle che abbiamo oggi sulla mobilità l'obiettivo sia sostanzialmente quello di cambiare le abitudini dei cittadini, fornirgli alternative. Il modo migliore per cambiare le abitudini dei cittadini non sia quello di costringerli a comportamenti di un certo tipo costringerli ad abbandonare la macchina sulla base di ricette puramente ideologiche ma cercare di fornirgli delle soluzioni alternative che possano diventare economiche quindi più economiche dell'utilizzo dell'auto e più vantaggiose anche dal punto di vista dei tempi di percorrenza. Questa è la scelta che perlomeno abbiamo fatto noi a Cagliari che è una delle città che ha la più grande percentuale di auto per abitante noi abbiamo 77 auto ogni 100 abitanti e superiamo credo tutti i record sotto questo punto di vista in Italia e l'obiettivo nostro è quello che hanno, si è detto anche prima, la gran parte delle città è quello di lavorare molto sul sistema del trasporto pubblico locale quindi migliorarlo attraverso flotte più efficienti, flotte rinnovate, mezzi green e sotto questo punto di vista, faccio sempre l'esempio della mia città perché ci aiuta a capire quello che sta succedendo in tante città noi abbiamo appena ordinato 90 bus elettrici che arriveranno nel dicembre 2024 altri 20 stanno arrivando, arriveranno a fine luglio l'obiettivo è arrivare entro il 2026 all'80% della flotta totalmente rinnovata una flotta elettrica che significa anche investimenti sulle infrastrutture perché poi qualcuno in qualche punto si dovranno ovviamente ricaricare con un investimento che supera i 150 milioni di euro come si è detto prima sono 3.000 gli autobus che devono essere acquistati gli autobus elettrici in Italia, magari ecco un ragionamento che il paese avrebbe dovuto fare sarebbe stato quello sulla creazione di una filiera che ci compensa ecco perché appunto ma so che uno dei problemi diciamo così o dei rischi sollevati è il rischio di non reperire l'offerta di tutti questi mezzi e soprattutto non reperirla in Italia qual è la situazione? ma il rischio è oggettivamente elevato perché quando ripeto parliamo a livello nazionale di 3.000 bus elettrici diventa importante devo dire che noi siamo stati fortunati li abbiamo ordinati 90 ci hanno confermato ne avevamo già ordinato 20 altri 90 che stanno arrivando vabbè se il delegato non pigliava gli autobus ovviamente no no li ordina li ordina l'azienda di trasporto pubblico ho la fortuna di avere un'azienda di trasporto pubblico locale che è particolarmente efficiente ecco insisto sul tema delle abitudini anche per ragioni della capacità di cambiamento di abitudini per ragioni anche diciamo autobiografiche avendo abitato a lungo a Milano e abitando ora a Roma posso dire che cambiano le abitudini di utilizzo diciamo così dell'auto però questi investimenti determinano anche un impatto sul fronte poi della gestione successiva come sono le proiezioni in termini per esempio di costi sapendo che per esempio nel trasporto pubblico locale urbano la copertura tariffaria è più o meno modesta a seconda delle aree, a seconda dei casi e a seconda dei contesti geografici ma modesta resta quasi sempre tranne che appunto a Milano beh senza il sostegno del governo delle regioni sarebbe impossibile nel senso che poi sono le regioni e il governo che ci dicono quanti chilometri dobbiamo fare e su quei chilometri che vengono effettuati ci viene riconosciuta ovviamente una compensazione tariffaria che poi si ribalta sul prezzo, sulla tariffa che deve fare che spende il cittadino per acquistare il biglietto o l'abbonamento però ci sono esempi positivi che tante città stanno facendo l'ha fatto Bari, l'abbiamo fatto anche noi lo cito sempre come elemento positivo per cambiare le abitudini noi quest'anno abbiamo investito proprio in questo periodo un milione e sei per ridurre l'abbonamento del 90% al sistema di trasporto pubblico locale, agli autobus ci aspettavamo 6-7 mila domande abbiamo avuto 15 mila domande nella prima giornata siamo arrivati a 30 mila domande ho dovuto mettere altri 2 milioni e 2 oggi abbiamo la possibilità di soddisfare 17 mila persone che utilizzeranno l'autobus al posto dell'auto è un risultato importante per una realtà metropolitana di 400 mila abitanti ovviamente significa creare delle abitudini quando il cittadino si rende conto che utilizzare l'autobus può essere più conveniente dal punto di vista economico perché spende di meno ma è assolutamente conveniente nei mezzi di trasporto negli spostamenti, casa lavoro, casa scuola, casa sport mantiene quell'abitudine, continuerà a fare l'abbonamento noi avremo maggiori flussi sul sistema degli autobus o della metro e questo significa garantire anche la sostenibilità delle aziende di trasporto pubblico locale e migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle città perché poi l'obiettivo finale fondamentalmente è questo chiarissimo, chiarissimo la ringrazio molto Sindaco per anche la chiarezza diciamo dello sviluppo del vostro